Signore, benedici tutti coloro che guardano questa mangiatoia, possa ricordarci l'unile nascita di Gesù e aiutarci ad elevare i nostri pensieri a Lui, che è il Dio con noi e salvatore di tutti e vive e regna nei secoli dei secoli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Grazie.